Sul fronte ai vaccini, oggi una giornata importante per la Puglia, superata quota 2 milioni di vaccinazioni. Questo significa oltre la metà della popolazione residente in Puglia. In questi 2 milioni ovviamente la gran parte sono prime dosi, ma abbiamo anche tante seconde dosi. Quindi non sono 2 milioni di persone vaccinate, ma sono 2 milioni di vaccini somministrati. È comunque un numero importante, è una giornata simbolica. È una giornata che in qualche maniera rappresenta tutto lo sforzo che è stato fatto dai colleghi che ormai sono mesi che fanno turni lunghissimi negli hub vaccinali. Tutti i medici in medicina generale che hanno dato un contributo enorme a questa campagna vaccinale. Quindi è davvero un risultato corale di un sistema che ha funzionato. Perché non è soltanto una questione di numero. 2 milioni di vaccini significa che in questo momento noi abbiamo superato il 90% delle persone che hanno più di 80 anni che sono state vaccinate. Siamo quasi vicini al 90% di persone fra i 70 e i 79 anni che sono state vaccinate. Abbiamo quasi il 70% di persone vaccinate fra i 60 e i 69 anni. Quindi sono dei numeri importantissimi. Quindi non è soltanto il numero, ma anche la qualità dell'offerta vaccinale che nella nostra regione, penso, abbia dato prova di qualcosa di cui possiamo essere fieri. Assessore, ci può dare qualche anticipazione su quella che è l'attualità in termini di vaccini? Ovvero i maturandi. Che cosa ci può dire a tal proposito? In questo momento non abbiamo indicazioni dal governo centrale. Sicuramente la vaccinazione delle scuole è qualcosa che stiamo programmando e pianificando per l'avvio del nuovo anno scolastico. Quando fra l'altro avremo anche a disposizione i vaccini che potranno essere utilizzati in età pediatrica. Quindi possiamo pensare al mondo della scuola in sicurezza finalmente con le vaccinazioni a partire dal prossimo anno scolastico.